vediamo come realizzare questa scritta con il tricottino creando quindi un tubolarino con un filo di cotone questa scritta io la vado ad adagiare su un supporto rigido circolare metallico quindi per prima cosa vado a creare la mia scritta lo posso fare a mano oppure mi posso aiutare con una stampa da computer quello che è importante fare è definire la grandezza della scritta quindi io mi sono andata a disegnare sul foglio forse non si vede bene ma in matita ho tracciato i confini della mia scritta e poi l'ho realizzata a mano ripeto se volete potete aiutarvi andando ad utilizzare un font dal computer quello che però dovete considerare è che poi ci servirà che questa scritta sia un continuo mentre la traccio perché la dobbiamo andare a creare con il fil di ferro ricoperta dal cotone quindi utilizzate un font molto morbido oppure fate una scritta considerando appunto che abbiamo bisogno di non staccare mai la penna dal foglio per poterla poi realizzare fatto questo passaggio quindi definita la grandezza orientativa della mia scritta cosa faccio prendo il filo io sto usando il cotone ighi della tessiland adatto a un uccinetto tra il 2 e mezzo e i 3 mm e vado a tracciare con il filo la scritta in maniera da definire indicativamente quanto tubolare mi serve quindi la lunghezza del tubolare che vado poi a realizzare con il tricottino quindi prendo il filo vado a ricalcare con il filo la mia scritta in maniera appunto da definire più o meno quanto filo mi serve andando ad adagiare il filo in maniera grossolana sulla scritta riesco poi a definire la lunghezza del tubolare che che realizzerò con il tricottino quindi mi servirà un tubolare di questa lunghezza che adesso mi vado a misurare con il centimetro chiaramente mi terrò un pochino più larga definita la lunghezza di tubolare che dobbiamo realizzare che nel mio caso è di circa un metro e mezzo andiamo a vedere come si crea il tubolare con questo strumento abbiamo due pezzi questa struttura e poi questo peso quello che dobbiamo fare è questo facciamo passare il filo da sotto a sopra questa linguetta di metallo poi lo infiliamo qui dentro nel buco il filo esce da sotto a questo punto prendo questo supporto questo peso che vado ad infilare il filo lasciando il pulsantino si blocca quindi in questo modo non si muove più o quasi per prima cosa dobbiamo bloccare il filo tra i nostri dentini tra questi uncini quindi muovendo la manovella facciamo passare il filo dentro il primo uncino poi aiutandoci eventualmente con un uncinetto o con la mano facciamo in modo di evitare di fare entrare il filo nel nel secondo nel successivo e poi invece lo facciamo passare nel terzo a questo punto il filo è bloccato possiamo iniziare successivamente dovrete trovare il modo di far stare il peso nel vuoto perché il filo deve essere in tensione e poi gireremo la la mano che lavorano volare questo esce da sotto e quindi posso andare a verificare la lunghezza e nel contempo dovrò spostare un pochino il pesetto man mano che lavoro e si allunga in maniera ad averlo sempre in tensione perché altrimenti man mano che lavoriamo finiamo per trovarcelo a terra quindi procediamo in questo modo e poi vi faccio vedere come sfilare quando ha raggiunto la lunghezza desiderata taglio il filo giro la manovella al contrario in senso anti orario in maniera che il filo esca dagli uncini e poi posso sfilare questi quattro anellini li lasciamo per ora aperti in maniera da sfruttare la fessura per inserire il fil di ferro e poi vedremo come chiudere potete scegliere tra diversi spessori io in questo caso andrò ad utilizzare questo filo verde quindi è un fil di ferro ricoperto in plastica questo è sottile realtà quindi tende un pochino a deformarsi ma in questo caso poiché io poi vado ad utilizzare un supporto rigido e quindi fisso la scritta al supporto mi va bene nel caso invece di scritte che devono stare su da sole quindi non attaccate un ulteriore supporto di solito vado ad utilizzare questo filo o uno similare questo fil di ferro con uno spessore di almeno 1,6 mm ma anche anche più spesso la difficoltà che incontrerete quando utilizzate questi fili più spessi è che per modellarli ci vuole molta forza nelle mani oppure è necessario aiutarsi con una pinza mentre nel caso di fili più sottili come in questo caso basta bastano le mani per modellare la scritta abbiamo due opzioni una è quella di andare a infilare il fil di ferro all'interno del tubolare e poi modellare direttamente il tubolare irrigidito l'altra opzione è quella di andare a modellare la scritta con il fil di ferro e successivamente inserire il tubolare sulla scritta già preformata secondo me la scelta è soggettiva quello che vi posso dire è che se realizzate prima la scritta con il fil di ferro e poi andate ad inserire il tubolare potrebbe essere un pochino più difficile l'inserimento nei punti che si sovrappongono come adesso poi vi mostrerò quindi in quel caso poi dovrete riallargare le lettere e ristringerle ma non è una grande difficoltà e si capisce solamente facendolo prima di inserire il fil di ferro nel tubolare vado ad arrotondare un pochettino la punta o con una pinza oppure in questo caso anche con l'uncinetto perché abbiamo detto che il filo in realtà non è non è molto spesso quindi è facile farlo anche in questo modo e poi piano piano me lo vado ad inserire all'interno di tutto il tubolare quindi lo facciamo scorrere in questo modo vedete avendo arrotondato la punta posso andare tranquilla e non mi capita di vedere la punta che spunta fuori dal tubolare quando dobbiamo andare a bloccare il foro operazione che possiamo fare dopo aver modellato la scritta oppure anche prima prendiamo praticamente l'ago infiliamo l'avanzo di filo e andiamo a passare l'ago all'interno delle fessure poiché qui sotto ho l'occhiello che ho fatto per arrotondare il fil di ferro eventualmente ci posso passare dentro con l'ago per essere sicura che non si muova al filo rispetto al tubolare a questo punto modelliamo la scritta una volta completata la modellazione della scritta andiamo a stabilizzarla in alcuni punti con l'ago o con la colla a caldo o con tutte e due quindi per esempio sono andata ad unire il fil di ferro attraverso il tubolarino in corrispondenza della o piuttosto che unendo la t in questo punto o ancora la e di nuovo la o qui e in maniera da rendere la scritta più compatta dritta e stabile adesso sempre con l'ago o con la colla a caldo la posso andare a fissare al supporto prima di fissare la scritta al supporto vado ad abbellire il mio fiocco nascita con questo elefantino amigurumi di cui trovate lo schema su instagram e presto anche qui su youtube e con dei palloncini grazie a tutti grazie a tutti